Come già ben sappiamo, Parini può essere considerato il padre dell'illuminismo italiano. Ecco quindi che, secondo l'autore, la poesia deve muoversi all'interno della ragione del verosimile. Siamo quindi molto distanti da ciò che accadeva nei secoli precedenti, in particolare negli autori che utilizzavano maggiormente la fantasia e il distacco dalla realtà. Inoltre per Parini la poesia è intesa come fatto individuale e sociale, nel senso che rivolgendosi ad un pubblico deve sempre promuovere la crescita morale civile della comunità in cui il poeta vive.